Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info Potrebbero essere definite pillole di aggiornamento e di approfondimento, quelle che verranno metaforicamente dispensate durante gli incontri che la categoria acconciatori ed estetisti sta organizzando sul territorio vicentino. Ecco di che cosa si tratta. L'attenzione verso il cliente e le sue esigenze, i cosmetici e la loro composizione ma anche le nuove tendenze in fatto di colore, acconciature e styling. Sono tanti gli argomenti che verranno trattati durante gli incontri rivolti agli operatori dei servizi per l'estetica. Ce ne parla il presidente provinciale della categoria Walter Casarotto. Abbiamo creato questo dépliant dal titolo Piacere di conoscerci che abbiamo spedito a tutti i nostri soci su Fari Impresa e con questo vogliamo evidenziare l'attività formativa che viene svolta nell'arco dell'anno 2011. In primis ritorniamo a fare quello che aveva dato molto successo in passato, i mercoledì culturali e quindi quattro appuntamenti dove valorizzeremo prima di tutto la conoscenza e quindi la conoscenza dei prodotti cosmetici. Primo. Secondo, la valorizzazione del proprio marchio e quindi la conoscenza e la valorizzazione della propria capacità professionale. E per ultima, sempre importantissima, le calvizie, i prodotti, cosa fanno, il sole. L'altro momento importante è proprio stimoli alla nostra professione e quindi abbiamo creato anche gli incontri di carattere tecnico-stilistici e portiamo a conoscenza sempre la nuova iniziativa del gruppo d'acquisto dove già 140 imprese, nostre associate del settore del benessere, hanno aderito con l'obiettivo di acquistare i prodotti a un prezzo più vantaggioso.